dicevo in una precedente pillola che uno dei problemi più frequenti che mi capita di incontrare in questi mesi in queste settimane anche in questi giorni tutti i giorni con imprenditori diversi di tutta l'italia di ogni dimensione di ogni settore è sempre il rapporto umano io sono l'unico in italia come sapete che parla di strategia umanistica cioè per me è fondamentale non soltanto l'analisi finanziaria economico patrimoniale materia di cui mi sono occupato per vent'anni ma anche l'analisi di tipo relazionale energetica e armonica cioè le aziende hanno sempre dei problemi e questi problemi che sono diversi di anno in anno hanno delle matrici comuni bisogna esaminare queste matrici se ci limitiamo all'analisi economico finanziaria patrimoniale ci limitiamo come se fossimo dei medici ad esaminare le analisi del sangue piuttosto che che ne so le le tac noi dobbiamo andare più in là non ci basta guardare il dato dobbiamo guardare l'origine del malessere non ci basta dire che c'è la febbre dobbiamo capire l'origine della febbre per fare questo bisogna entrare nell'analisi dei rapporti umani io lo chiamo people management questa analisi dei rapporti umani riguarda tanti aspetti i rapporti tra i soci i rapporti del family business i rapporti delle persone che contano veramente in azienda che alle volte non sono formalmente in organigramma per esempio una delle regole che ho quando io ricevo un imprenditore per verificare se prenderlo come cliente è ma chi decide l'azienda perché se questo imprenditore poi deve andare a casa a parlare con la moglie o col figlio per prendere una decisione pretendo che la discussione sia fatta immediatamente con tutti coloro che decidono chiaro ecco le aziende sono fatte di meccanismi complessi che non si leggono né sul certificato camerale né sul bilancio quindi bisogna entrare in un'analisi molto più profonda come quella che io sto facendo in queste ore con un imprenditore che ha due attività e problemi organizzativi su entrambe queste attività ma diverse sono tutti problemi organizzativi legati ai rapporti umani quando si entra in questo ordine di considerazioni ci sono come dicevo in una precedente puntata due questioni fondamentali chiaramente da tenere distinte ma molto collegate tra loro uno si chiama modello di leadership l'altro si chiama modello organizzativo tante persone confondono le due cose la leadership è un'arte ed è difficile schematizzarla come fanno i tanti libri di strategia che ho letto studiato in parte anche insegnato che tendono a categorizzare la leadership aziendale in uno o diversi modelli scritti con delle caratteristiche non funzionano così le cose secondo me i modelli di leadership migliori sono quelli originali e bisogna capire che il modello va cucito attorno all'imprenditore e non viceversa il modello di tipo organizzativo è invece a valle ed è il rapporto che discende dalla leadership verso i dipendenti alla prossima